Strummula, calcio, balilla, briccica, campana. I giochi di un tempo tornano nel centro storico di Caltanissetta su iniziativa del coordinamento dei comitati di quartiere. In prima linea quello che fa capo a San Domenico, Angeli, San Giovanni, San Francesco e altri rioni. Appuntamento previsto lunedì sera a partire dalle 19 in Corso Umberto nelle adiacenze della chiesa di Sant'Agata. Potranno partecipare bambini, ragazzi, adulti senza limite d'età. Noi questa novità l'abbiamo già lanciata l'anno scorso all'interno del presepe vivente cercando di far ricordare i vecchi giochi dei ragazzi. Diamo che ognuno di noi si riappropi del passato, di un recente passato in modo tale da portare avanti tutto quello che con poco si riusciva a divertirsi. Spieghiamo cos'è la strumula. Allora, la strumula sono le trottole, cosiddette in italiano trottole, che con un gruppo di amici si cercava di fare attraversare la cosiddetta strumula, attraversare una linea e tutti i colori quali riuscivano vingevano il torneo o la partita. Il gioco della campana? Il gioco della campana più che altro era adatto alle femminucce, alle femminucce che come vedete nello schizzo si saltava attraverso questi numeri e questo è molto adatto. Poi abbiamo il calcio balilla, la partita è la cosiddetta briscica, la cosiddetta briscica dove io da ragazzo mi divertivo a giocare all'interno del quartiere, sempre all'interno del quartiere San Domenico.